Prima al Dei Marzi per l'Avezzano di Mister Scorsini contro il Montegiorgio, i Biancoverdi vogliono infatti cancellare le due sconfitte subite a casa del Porto d'Ascoli, prima in Coppa e poi in campionato. Diversi nuovi acquisti in campo per i marsicani, tra questi il portiere Coco, il centrocampista Bianciardi e l'attaccante Bittaglie. Pronti via, l'Avezzano spaventa l'estremo ospite con una punizione di Zanon, quindi trema sulla conclusione a botta sicura di Diop, fuori di pochissimo. Il match si sblocca con una ripartenza marsicana al 41esimo, quando una trattenuta di Cardoni porta il giocatore del Montegiorgio a rosso e Dos Santos sul dischetto. L'attaccante brasiliano non sbaglia e firma il suo primo gol in campionato, quello dell'1-0 per l'Avezzano. Per il primo tempo non c'è più nulla da raccontare e nella ripresa i marsicani provano a controllare la gara e con una superazione di Sissé sfiorano il raddoppio al quarto d'ora, deliziando lo stadio dei marsi. Il Montegiorgio cerca di farsi orgogliosamente in avanti, ma in due occasioni è bravo e soprattutto attento il portiere Coco, quindi l'Avezzano risponde sull'altro fronte testando i riflessi di Forconesi. C'è spazio per una conclusione al volo di Bianciardi e per un tiro fuori di pochissimo di Sissé, quindi il match va alla storia, l'Avezzano di Mister Scorsini porta a casa il primo successo stagionale inondando il dei marsi di soddisfazioni e di belle speranze.